Abbiamo presentato il secondo stralcio dei lavori per quanto riguarda il Borgo di Preggio, l'occasione per continuare a lavorare per una rivolificazione di un luogo importante per la nostra comunità e per l'Umbria intero. Crediamo che valorizzando i centri storici come questo valorizziamo un po' anche il nostro ambiente naturale, la nostra città, la nostra Umbria e gli investimenti che abbiamo fatto fino ad oggi e non ci fermeremo su quelli che abbiamo fatto ma ragioneremo anche di quelli che faremo, sono l'emblema di un impegno, di un'amministrazione che crede davvero nel valorizzare i propri borghi storici, la propria cultura, i propri luoghi d'arte e di bellezza naturale. Quindi stasera inauguriamo la festa della Sagra della Castagna ma è l'occasione per presentare un altro pezzo di lavoro che portiamo a compimento come amministrazione comunale.